C'è, ore 19.41, Bruno aggancia, c'è un cazzo, è troppo lontano, è perché l'ho dichiarato, c'è che si diverte a prenderlo? Dai, mettono anche questo, guarda le frustate, guarda bene, è la ripresa quella da 100 km, lo shad ha funzionato, non so come lavorano la pressione, c'è? No, non riesco a capire, la cosa era bellina, però è venuto sotto subito, qui così c'era il mattone dell'aria, no, c'è, questo era almeno 8 kg di truci, anche di più secondo me, ho mangiato a galla, sì, in caduta o in, se l'ho detto, walking the dog qui tanto male che ho trovo insieme, di oggi, un'estima sed ... Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.